Un incidente in superstrada tra i mezzi coinvolti di un ferito trasportato in ospedale. Il fatto si è verificato questa mattina intorno alle 7.30 ed è solo l'ultimo degli impatti verificatosi nella tratta a scorrimento veloce che collega Biella e Cossato. Lo scontro è avvenuto prima dell'uscita di Vigliano e si sarebbero dapprima scontrati un furgone e un'auto. Non si conoscono ancora le cause dell'impatto ma ci sarebbe stato anche un ferito trasportato immediatamente in ospedale. Negli stessi istanti un'altra auto sarebbe rimasta coinvolta in prossimità del primo incidente. Il traffico ha subito inevitabilmente rallentamenti anche per l'orario di punta e l'entrata di Biella verso Cossato è stata momentaneamente chiusa al traffico dalla polizia locale di Biella fino alla rimozione dei veicoli. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, i carabinieri di zona ed anche gli agenti di polizia locale di Vigliano.